Ciao a tutti, sono Concetta Demma, l'Uncommercial Fan di Uncommercial Health. Il pontiglione fra il mondo dell'ospitalità e quelli che ho definito gli Uncommercial Guests, ovvero le persone con esigenze un po' diverse dalla norma, a partire da quelle alimentari, vegani, vegetariani, celiaci, intolleranti al lattosio, sportivi e così via, e quelli che sono un po' definiti i rompiballe del mondo dell'ospitalità, che io invece vedo come opportunità e come semplicemente delle persone normali, con delle esigenze da soddisfare. E sono qui all'EcoTel Buonapace di Torgole, che è sul lago di Garda, quindi in Italia chiaramente, in Trentino, per capire un attimino come valorizzare il loro Uncommercial Breakfast, con una serie di strategie chiaramente secondo il sistema delle tre regole d'oro. Sarò qui per due giorni e mezzo e vediamo un po' cosa succederà. Ciao!